91 milioni di euro arriveranno a Gela dal patto per la Sicilia firmato qualche settimana dietro ad Agrigento dal Premier Matteo Renzi, altri 21 sono destinati a Mussomeli. Non accade né ogni mese né ogni anno di avere la possibilità di realizzare opere pubbliche. Ci auguriamo strategiche per una provincia dimenticata da decenni che senza la costruzione della Caltanissetta Agrigento potremmo definirla al dopo precipizio, cosa ben più grave dell'orlo del precipizio. Lo dicono Ignazio Giudice, segretario generale della CGL e Franco Cosca, segretario della Fillea CGL, i quali si appellano al buonsenso del ceto politico-amministrativo che in fase di appalto e relativa a giudicazione dovrebbe inserire una clausola sociale di salvaguardia per i lavoratori del territorio che da decenni sono disoccupati. La politica ci ha abituato agli annunci, invece i lavoratori cittadini, soprattutto i disoccupati e le disoccupate, aspirano a fatti concreti. I fatti concreti possono arrivare in Sicilia, in questo caso per esempio in provincia di Caltanissetta, attraverso questo mega finanziamento di 121 milioni tra Gela e Mussomeli, 91 a Gela e 21 a Mussomeli, in infrastrutture. Le infrastrutture creano sviluppo, creano un indotto, possono dare occupazione anche a tanti architetti, geometri, geologi, ingegneri, oltre a tanti carpintieri, manovale, manovratori. Noi abbiamo proposto che i disoccupati di lunga durata possono avere una priorità assoluta su tutti e soprattutto i lavoratori del territorio, quindi noi pensiamo di incontrare la presenza della Regione e soprattutto i sindaci interessati alle opere pubbliche da appaltare ed inserire nel patto per la Sicilia per fare avere una priorità ai disoccupati che sono privi di reddito e che quindi sono disperati.